Per sapere, ma perché Pirlo e Gattuso non hanno potuto? Ah, ehm... René, hanno fatto gli spocchiosi, fanatici, tutti un po' freddi, invece Sergio Brio, capito? Ha accettato subito con un entusiasmo che io mi sono detto ma punta al sole! C'avevo Sergio Brio! E Piavus è Sergio Brio! Grazie, Sergio. Veramente, grazie. Grazie, ringrazio un po'. Dov'è?